Buongiorno, benvenuti a questa lezione del corso di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di ragionamento visuale, ovvero del secondo passo in quella che è la pipeline visuale che abbiamo identificato nelle scorse lezioni, dopo la percezione il secondo passo e il ragionamento. Qual è l'obiettivo della parte di ragionamento? È quello di andare a suggerire e permettere a chi osserva la nostra visualizzazione di effettuare le tre operazioni base, ovvero la discriminazione, quindi distinguere gli oggetti che rappresentano vari dati, il confronto, quindi capire chi è più grande e chi è più piccolo e la valutazione della dimensione, quindi andare a capire quante volte un oggetto è più grande, più colorato o comunque che numero rappresenta rispetto a un altro. Questo noi lo facciamo sostanzialmente un po' tramite gli attributi visuali di cui abbiamo parlato nella lezione precedente relativamente alla parte percettiva, in parte tramite il layout, la disposizione degli elementi sul grafico. Per fare questo ci vengono in aiuto una serie di principi, che si chiamano principi gestalt, che permettono all'osservatore sostanzialmente di andare a raggruppare gli oggetti tra di loro, oppure in alternativa a percepirli in maniera separata. Vediamo nel dettaglio quali sono questi principi e come funzionano. Il primo dei principi che vogliamo andare a osservare è il principio di prossimità. Il principio di prossimità ci indica che, ci suggerisce che sostanzialmente noi percepiamo come un gruppo unico degli elementi che si trovano vicini l'uno all'altro. l'altro lato della medaglia è che noi andiamo a percepire come separati gruppi di elementi che invece sono più distanti tra di loro. Il secondo principio è quello di similarità, in base al quale la nostra percezione è di gruppi che sono identificati sostanzialmente da una qualche somiglianza. Nel caso specifico questi punti neri vengono percepiti come un gruppo distinto e separato da questi altri gruppi grigi. E ovviamente i tre gruppi neri sono percepiti come far parte di una unità che è distinta dall'altra entità che è rappresentata dai gruppi di colore grigio. Un altro principio è quello di enclosure. Quindi sostanzialmente l'idea è che noi percepiamo come far parte di un elemento, gli elementi, far parte di un gruppo, se questi sono racchiusi all'interno di una figura. Possono essere racchiusi, come in questo caso, da sostanzialmente un poligono, oppure, come nel caso più a destra, essere invece racchiusi da una forma che è sostanzialmente un'area con un colore diverso. Quindi mentre qui abbiamo semplicemente il perimetro, qui abbiamo tutta l'area che identifica una regione che racchiude gli elementi. Quindi gli elementi racchiusi qua sono percepiti tra di loro come facenti parte dello stesso gruppo e separati dal resto. Quindi questo è un altro meccanismo che ci permette di andare a unire o separare, se lo usiamo nell'altro modo, elementi. Closure. La closure è un meccanismo che sostanzialmente sfrutta delle capacità del sistema percettivo umano, in base al quale noi percepiamo come chi usa una figura anche se questa non lo è. Per cui nel primo esempio noi percepiamo tutta questa serie di segmenti come formare un rettangolo chiuso. In realtà non è così. Anche sotto noi percepiamo un triangolo che è questo qui e un altro triangolo che è quello che sostanzialmente non esiste, ma è dato da questi tre estremi che hanno questo buco dentro il cerchio che sostanzialmente sembra il vertice di un triangolo. questo ci permette di andare non tanto a mantenere gli oggetti raggruppati insieme, ma sostanzialmente nell'andare a dare un riferimento comune, una linea immaginaria che permette di andare a percepire tutti gli elementi punti come allineati allo stesso livello o allineati a una linea che in realtà non esiste esplicitamente. La continuità sostanzialmente consiste nell'andare a percepire come facenti parte di un'unica serie gli elementi che sembrano seguire una linea che è la più continua possibile. Per cui in queste serie di punti noi percepiamo una serie di punti che seguono questa linea viola e un'altra che seguono questa linea arancione, pur non essendo sostanzialmente due gruppi diversi. È un tutt'uno, ma il nostro seguire una linea immaginaria ci permette di andare a percepirli come facenti parte dello stesso insieme. Infine il principio di connessione sostanzialmente suggerisce al nostro sistema percettivo di considerare come facenti parte dello stesso gruppo gli elementi che sono tra di loro connessi e invece facenti parte di un altro gruppo quelli che non sono connessi. Come possiamo utilizzare questi principi? Vediamo alcuni esempi. Allora, iniziamo a utilizzare il principio di similarità. Ecco qui abbiamo un diagramma con due serie di valori, Booking e Billing, dove Booking sono questi rombi viola e Billing sono questi quadrati arancioni. Quindi la similarità sia nella forma che nel colore dei rombi e il colore e forma dei quadrati arancioni sostanzialmente ci permettono di andare a identificare due gruppi. Ovviamente messi così noi li percepiamo come distinti ma abbiamo difficoltà a seguire l'andamento, soprattutto se, come in questo caso, sull'asse delle ascisse ci troviamo una serie temporale, dove Q1 e Q4 indicano i trimestri da 1 a 4. Per cui, a fronte di questa difficoltà, può essere conveniente andare a identificare un ulteriore meccanismo per raggruppare assieme. E, ad esempio, qui stiamo utilizzando il principio di connessione, per cui andando a connettere gli elementi tra di loro, li percepiamo ancora più vicini e soprattutto riusciamo a valutare quello che è l'andamento. Qui il meccanismo è ancora più complesso perché questo segmento sostanzialmente ci permette di andare a valutare anche un altro aspetto, la pendenza del segmento, che ci dà indicativamente una variazione tra questo punto e questo, e anche le pendenze di tutti questi segmenti, che sono tutte simili, quindi ci danno un andamento sostanzialmente analogo. Il fatto che poi questo segmento e questo segmento appaiono sostanzialmente paralleli ci suggerisce che la variazione in questi due casi è sostanzialmente la stessa. Un altro ulteriore principio che possiamo applicare per migliorare la lettura è quello della prossimità. Vi faccio notare che, come avviene in tanti grafici, il significato di questi due gruppi, queste due serie di numeri, è rappresentato da una leggenda. Io qui la leggenda l'ho messa molto vicino alle due serie di numeri, ma sostanzialmente noi per capire che l'arancione corrisponde al billing dobbiamo, sostanzialmente, andare avanti e indietro dalla leggenda alla serie di dati. Una possibile alternativa è quella di andare a utilizzare un meccanismo che sfrutta la proximity. Quindi la proximity mi permette di andare a mettere questa etichetta vicino a un estremo della serie, ma potrei anche metterlo vicino anche all'altro, se fosse utile, in questo caso è chiaro. Per cui, avendo l'etichetta vicino alla serie, qui sfrutto anche la similarità di colore tra l'etichetta e la serie, mi permette di andare a permettere un comprendere questa etichetta come parte di questa serie o comunque sostanzialmente facenti parte dello stesso insieme, dove questo è una descrizione e gli altri sono i dati. Questa tecnica, che si chiama Direct Labeling, è decisamente da preferire rispetto alla soluzione precedente che andava a identificare le serie con una leggenda separata. In generale, evitare di far fare dei movimenti oculari avanti e indietro tra leggenda e serie di dati è molto utile in tutti i casi, per cui, ovunque riusciamo ad applicarlo, il Direct Labeling è un qualcosa che ci permette una lettura molto più agevole e soprattutto permette ai nostri osservatori un'immediata percezione di quelli che sono i dati. Altro esempio. Qui abbiamo la similarità, quindi abbiamo questa serie arancione e questa serie viola, che sono due serie chiaramente separate, inoltre abbiamo una prossimità relativamente al valore temporale, quindi il tipo di valore, diretto o indiretto, viene dato tramite la similarità, mentre invece l'istante temporale, quindi il trimestre da 1 a 4, viene dato tramite il concetto di prossimità. Quindi queste due barre sono vicine perché rappresentano i valori che fanno riferimento esattamente allo stesso trimestre e l'etichetta che sta vicino indica qual è il trimestre. Quindi il fatto che queste due barre più l'etichetta siano vicine mi stanno a indicare che fanno riferimento a quel quadrimestre, scusate, a quel trimestre. Volendo io posso ulteriormente andare a separare gli elementi, per cui oltre alla prossimità io potrei aggiungere anche questi rettangoli tratteggiati che oltre alla prossimità definiscono quello, sfruttano il principio che si chiama di enclosio, quindi andando a racchiudere i valori che corrispondono ai quattro trimestri. Quindi ancora più distinti e separati dagli altri. Il problema dell'enclosure, che a volte funziona, ma non sempre, è che se invece noi vogliamo andare a scorrere l'andamento, per dire, di questa serie arancione, il nostro movimento oculare, invece di andare da uno all'altro tranquillamente, di solito viene bloccato temporaneamente da questa barra verticale. Quindi non riusciamo a leggere bene questo andamento, come invece lo facevamo in questo caso, in cui il nostro sguardo va tranquillamente dal primo all'ultima barra, mentre in questo caso il nostro sguardo sostanzialmente viene un po' interrotto da questa serie di barre verticali. Per cui l'enclosure è un principio che sicuramente funziona, ma può andare a interferire con altri compiti che noi vogliamo vengano svolti in maniera agevole dai nostri osservatori. Un'altra modifica rispetto a questo diagramma è, ad esempio, quella che permette di andare a rimuovere questo asse orizzontale andando a sfruttare quella che è la continuità. Quindi noi vediamo una serie unica qui che ci permette di vedere le basi come se fossero appoggiate su una linea ideale, che in realtà non esiste. Questo sostanzialmente ci permette di andare a togliere degli elementi che non sono strettamente necessari, rendendo il grafico più semplice e permettendone una comprensione più agevole. In generale ricordatevi che quando utilizziamo la similarità, soprattutto per andare a utilizzare i colori, per separare serie di dati diversi, dobbiamo fare i conti con quello che è un limite del numero di percezioni distinte che noi siamo in grado di cogliere immediatamente. In generale, l'immediatezza di qualunque suggerimento, qualunque traccia preattenzionale, quindi tutti gli attributi che abbiamo visto nella lezione precedente, lunghezze, colori, forme, eccetera, eccetera, declina, sostanzialmente cala, man mano che aumentano le alternative. Anche se tutte queste alternative sono diverse, quindi se andiamo a trattare sia colori che forme, e se sostanzialmente non vanno a interferire con quello che è potenzialmente il nostro target. Per cui, in generale, dato un singolo attributo, il colore per esempio, generalmente il numero massimo di diverse varianti che noi riusciamo a percepire in maniera immediata è limitato a 4. Questo è un grosso limite quando andiamo a gestire il principio di similarità, per cui, se in questo caso è immediato andare a distinguere i due colori, in un caso come questo è estremamente complicato. Perché? Perché i colori sono tanti e soprattutto alcuni colori sono molto simili. È sostanzialmente impossibile andare a distinguerli. Questo è quello che io di solito chiamo una torta arcobaleno, in cui abbiamo tutti i possibili colori che, ovviamente, per essere interpretati devono essere correlati con una leggenda separata che è molto difficile da collegare. In generale, quando voi utilizzate dei diagrammi a torta, l'uso di una leggenda separata è estremamente problematico, quindi in generale è molto, molto meglio andare a utilizzare un direct labeling, quindi un'etichetta direttamente vicina alla fetta che vogliamo andare a indicare, in modo da evitare un principio di similarità che sfrutti un numero di diverse alternative che superi il numero di 4. In generale, quando abbiamo tanti attributi, molto spesso gli attributi interferiscono l'un l'altro. Andiamo a osservare questo caso, in cui ci sembra di osservare una distinzione, però i due forme che troviamo in questi due gruppi un po' ci disturbano, e ancora di più in questo caso. Quando parliamo di interferenza di attributi, dobbiamo fare attenzione che alcuni attributi sono più preponderanti rispetto ad altri. Qui ci sono un po' di varianti. Allora, qui abbiamo, in basso a sinistra, la variante in cui abbiamo nessuna variazione in termini di forma, ma una variazione in termini di colore. In basso a destra, invece, troviamo il contrario, quindi non abbiamo alcuna variazione in termini di colore, ma abbiamo una variazione in termini di forma. Qui in alto, invece, abbiamo una variazione in termini di colore, ma una variazione sostanzialmente casuale in termini di forma. E qui, in alto a destra, troviamo la divisione che viene data dalla forma, ma con un'interferenza che viene data dal colore. Qui, invece, nella parte centrale, troviamo sostanzialmente forma e colore che lavorano assieme per andare a distinguere contemporaneamente questi due gruppi. Ora, mentre è ovvio che quella centrale è quella più facilmente identificabile, quale di queste due alternative preferite? Tendenzialmente, questa che usa il colore rispetto a quella che usa esclusivamente la forma è decisamente più facilmente percepibile in maniera immediata. Perché? Perché sostanzialmente il colore è uno degli attributi più potenti che noi abbiamo a disposizione e quindi dobbiamo cercare di utilizzarlo il più possibile. E funziona decisamente meglio il colore rispetto alla forma. Nel migliore dell'ipotesi, ovviamente, potremmo utilizzare entrambi, sia la forma che il colore, assieme in modo da potenziare il messaggio. Infine, per quanto riguarda la disposizione degli elementi all'interno di un grafico, dobbiamo utilizzare quelle che sono le convenzioni culturali, a cui vi accennavo un paio di lezioni fa, che riguardano il modo, ad esempio, comune nelle culture occidentali di procedere nella lettura da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Quindi, in generale, ciò che si trova in cima e essenzialmente a sinistra è più importante, precede ciò che si trova in basso e eventualmente a destra. Questo vale in termini di importanza, in termini di ordine, ma anche in termini di tempo. Per cui, normalmente, quando noi abbiamo una serie di misure che rappresentano un tempo, il tempo solitamente è bene che cresca o dall'alto verso il basso, oppure da sinistra verso destra. Usare una convenzione opposta solitamente disorienta un po' l'osservatore, che quindi ha dei problemi nell'andare a identificare e leggere correttamente il grafico. Infine, spesso è necessario andare a enfatizzare alcuni elementi nel nostro grafico per dare importanza e per andare a suggerire una lettura e dare una comprensione facilitata di quello che viene mostrato. Per cui, noi che cosa facciamo? Andiamo a utilizzare alcuni attributi, ad esempio lo spessore della linea, che quando si tratta di testo, semplicemente vuol dire che usiamo un testo in grassetto, oppure linee più spesse. Usiamo la dimensione, per cui utilizziamo tabelle più grandi o font più grandi, oppure grafici più grandi, barre più larghe, simboli più grandi, che quindi permettono di essere distinti rispetto agli altri. Possiamo utilizzare l'intensità del colore. In generale, i colori molto diversi, quindi brillanti o decisamente più scuri degli altri, di solito attirano l'attenzione e dovrebbero essere utilizzati sostanzialmente per andare a dare un messaggio che enfatizza un particolare elemento. Oppure la posizione nello spazio o sul piano, per cui in cima, a sinistra, o eventualmente in centro, se abbiamo pochi elementi, e quindi vogliamo focalizzare l'attenzione sul centro del nostro diagramma. Quindi tutti questi sono dei principi che noi possiamo andare a utilizzare per andare a facilitare quell'operazione di sostanzialmente ragionamento visuale, che comporta identificare gli elementi, quindi i principi di Gestalt permettono di andare a separarli, raggrupparli in vari insiemi, di andare a valutare, sostanzialmente di fare un confronto, quindi andare a capire chi è più grande, e questo permette di andare a metterli in maniera ordinata, e poi permettere anche una valutazione quantitativa, quindi utilizzando un'opportuna codifica e andando a identificare gli elementi che possano essere confrontati tra di loro.